da Luigi Di Lauro perché andiamo in quei territori sette mesi fa messi in ginocchio da una terribile alluvione, ci furono quattro morti. Luigi Di Lauro. Eccoci qui, buongiorno anche da Pisticci, siamo in Contrada Sant'Angelo, dal web avete visto le immagini dell'invaso del Pertusillo e questo possiamo dirlo potrebbe essere un nuovo lago lucano, il lago Sant'Angelo, potremmo battezzarlo così, è una zona che è rimasta praticamente così dall'ultima alluvione, quella di dicembre, ma sette mesi fa come dicevi tu da studio nel mese di ottobre c'è stato un primo evento alluvionale con quattro morti, un evento tragico a sette mesi da quel tragico evento riprende la mobilitazione del comitato Difendiamo le Terre Ioniche per richiamare l'attenzione su un'avvertenza che non è stata mai chiusa, qui alla mia destra si sta lavorando per allestire un nuovo campo base perché riparte la mobilitazione insieme le genti dei territori del Metapontino ma anche Montescagioso, non dimentichiamolo la terribile frana che ha colpito in quelle settimane, in quei mesi anche Montescagioso, parleremo con i protagonisti di quei terribili momenti più avanti nel corso della nostra trasmissione, per ora è tutto, ti restituisco la linea. Noi ora torniamo a collegarci in diretta da Luigi Di Lauro che si trova nei territori colpiti gravemente dall'alluvione di sette mesi fa, Luigi Di Lauro si trova per noi a Pisticci, Luigi a te. Sì ecco ci riprendiamo la linea da Pisticci, come vi mostrano ancora le nostre immagini questo lago artificiale che si è creato dopo le ultime alluvioni, noi siamo con il signor Serafino che è il proprietario di questo terreno, insomma lei qua deve riconvertire, non può più coltivare. Ma in effetti anche la GEA mi ha detto di riconvertire il tutto e fare una pescicoltura, perché non ci sono altre cose da fare, non si può più coltivare questo terreno. Insomma uno stato dell'arte che con questi ultimi eventi alluvionali praticamente ha cambiato in effetti la conformazione del terreno. Sì perché qua basta un non niente, una pioggia un po' più insistente che si crea sempre il lago, intanto che l'acqua non riesce a defluire, insomma il fiume esce fuori e siamo proprio in una situazione drammatica. Una situazione drammatica che con gli ultimi eventi alluvionali ha riguardato non solo l'agricoltura ma anche tante attività commerciali, sappiamo quello che è accaduto e ricordiamo quello che è accaduto a Marconia, ma in questi mesi che cosa è successo? Ma guardi non è successo praticamente niente, nel senso che tutto è rimasto così com'era, le istituzioni non si sono mosse, sono rimaste tante parole dette ma fatti niente, abbiamo una viabilità ancora molto molto precaria, almeno per quanto riguarda Marconia e Bernalda e per quanto riguarda le attività commerciali ci siamo rialzati da soli, rialzati tra virgolette, nel senso che abbiamo ripristinato al meglio le nostre attività, però con grandi difficoltà economiche soprattutto e materiali. Speriamo che le parole seguano i fatti e che possiamo avere almeno un minimo di ristoro per poter respirare un pochino, perché il tutto poi si va a coincidere anche con questa grave crisi economica che sicuramente non favorisce la situazione. Un territorio che si sgretola, ma un territorio che non è più disposto a sopportare e ad accettare quello che è accaduto in questi mesi, per questo riparte la mobilitazione del comitato Difendiamo le terre ioniche, Gianni Fabris è il portavoce di questo comitato, allora è arrivato il momento di fare il punto sulla situazione, sette mesi forse sono un po' troppi. È arrivato il momento di chiudere questa avvertenza, qui l'abbiamo detto più volte ma questa è la volta definitiva, noi siamo rimasti fermi al 28 dicembre del 2013 quando dopo l'ennesimo sciopero della fame avevamo incassato due impegni, ci sono stati gli impegni del capo della protezione civile sulle due ordinanze che poi puntualmente sono arrivate con alcuni primi soldi che sono stati messi a disposizione del territorio, ma poi soprattutto ci sono stati gli impegni della regione basilicata a dare risposte. Nel frattempo c'è stata la nuova giunta, c'è stato il bilancio, ci sono stati nuovi assessori, nuovi dirigenti, abbiamo attesa di interloquendo con loro. Oggi è arrivato il momento di mettere una partita e di incassare questi impegni. Parte la nuova fase della mobilitazione, in realtà iniziamo lunedì prossimo, per 50 giorni questa mobilitazione si concluderà ai 7 mesi dall'evento del primo dicembre che distrusse, sconvolse Montesco Aglioso con la Frana e tutta una serie di altri comuni e noi abbiamo tre obiettivi. Il primo è che la regione basilicata, basta convegni, la regione basilicata deve adottare un piano per la messa in sicurezza del territorio. Adottarlo significa un atto concreto in cui c'è scritto cosa fare, in quali tempi e quali soldi. Due, un accordo sui risarcimenti, servono 27 milioni di euro per le tre alluvioni per i risarcimenti ai privati, ma poi soprattutto oggi noi lanceremo, ci torneremo in mattinata, una proposta su dove trovare i soldi. Ci sono 270 milioni di euro fermi, bisogna mettere a disposizione della terra lucana. Bene, allora noi continueremo ovviamente a seguire durante la mattinata quanto accadrà qui allo scalo di Pisticci. Per il momento è tutto, la linea torna allo studio.